Non potete immaginare quante richieste mi sono arrivate per build gaming da 1000 euro, 1200 euro, 1500 euro e così via. Allora ho deciso di fare una serie di video dove vi farò vedere le build complete con tutte le componenti e varie alternative, discutiamo sui prezzi con consigli vari ed ovviamente tanti gameplay. Il pc qua dietro è già pronto, andiamo! Premessa importante in questi video perché questo fa parte di una serie di video e presto arriverà anche una build per chi vuole rimane molto il prezzo, quindi attivate le notifiche. Dicevo consiglierò delle componenti nuove, recenti, perché questa tipologia di video viene vista anche dopo diversi mesi, quindi voglio che i consigli che si trovano all'interno di questo video siano sempre freschi e aggiornati. Ma non perdiamoci in chiacchiere, il video sarà un po' lungo, vi lascio qui la timeline, vediamo le componenti! Grande ritorno per un processore Intel che avete già visto sul canale e come vi anticipai nel video, è assolutamente perfetto per il gaming. Sto parlando del Core i5-11400, meglio se in versione F, è un 6-core 12-thread con base clock a 2,6 GHz e max boost a 4,4 GHz. Ed io in questo caso l'ho utilizzato sbloccando il power limit per avere un bel boost di prestazioni, dovendo però ricorrere ad un dissipatore a liquido. Lo so, lo so, tranquilli, ritorneranno anche le build con AMD. Come dissipatore a liquido mi sono affidato al nuovo Arctic Liquid Freezer 2 da 240 mm, un dissipatore a liquido fantastico, super apprezzato dalla community, che nella sua nuova versione ha fixato anche il suo unico difetto, non avere dei LED RGB. Arctic ha inserito le sue nuove ventole P12 PWM a RGB che sono davvero bellissime e super silenziose. Appena torneranno disponibili ne prenderò altre perché sono davvero fantastiche. Inizialmente ho testato la build su una test bench con BI550 e andava benissimo, ma alla fine ho optato per questa ASRock Z590 Extreme per due motivi. Il primo è di natura tecnica perché volevo provare i nuovi BIOS aggiornati con le ultime ottimizzazioni per piattaforma Intel. Il secondo motivo è estetico, sì lo so, ci sono cascato, ma in questa build questa scheda madre ci stava benissimo e non ho saputo rinunciarci. Meglio prenderla a ridere perché è una cosa stupida da fare nelle build, ma la passione è passione che devo fare. Per quanto riguarda RAM SSD vale il solito consiglio, sono delle componenti che vanno spesso in offerta sul nostro canale Telegram tra l'altro, quindi non ha senso prenderla a prezzo pieno a meno che non si cerchi proprio quella determinata RAM, ma quella determinata frequenza. Stessa cosa vale per il modulo SSD M.2 NVMe, altro componente che va spessissimo in offerta, e a questo punto approfitto per ricordarvi l'Amazon Prime Day perché lì si possono fare davvero degli ottimi affari, quindi mi raccomando, tutti i link in descrizione, seguitelo con noi. Io ad esempio se con i due banchi da 8 per un totale di 16GB di RAM di Crucial Ballistics Max da 4400MHz sono a posto, al Prime Day vorrei puntare a un modulo SSD NVMe PCI Express 4.0 bello capiente da almeno 2TB perché qui ho utilizzato un Crucial P5 3.0. Per il case ho optato per lo Sharkoon Elite Shark CA300H che nella sua versione bianca è davvero bellissimo. Si lavora molto bene in questo case, di fatto l'ho utilizzato anche per la guida all'assemblaggio, e devo ammettere che è tutto a posto giusto e che permette anche a chi vuole fare impianti spinti di trovare spazio per le proprie idee. I materiali utilizzati sono ottimi, il airflow può essere gestito bene, la costruzione è decisamente elevata, è pieno di sganci rapidi, c'è il doppio pannello in vetro temperato ed anche una buona gestione per cable management. C'è la porta USB-C 3.2 Gen 2 sul frontale e viene fornito con 4 ventole RGB ma io ne ho sfruttate solo 3 perché ho aggiunto qualche extra. L'extra più importante che ho aggiunto è la ventola posteriore per espellere l'aria calda. Mi sono affidato a Noctua con la sua F12 da 120 mm nella versione Chromax Black con i piedini antivibrazione di colore blu abbinati alla scheda madre. L'altra cosa che ho voluto inserire al solo fine estetico sono i cavi slivati che ci stanno benissimo in combo con quelli del dissipatore a liquido Arctic. Anche in questo caso li ho presi in offerta su Amazon, sono di un brand che non conoscevo, Asia Horse, e devo ammettere che sono molto belli, si tirano bene, non sono super rigidi. Per esempio con quelli per la scheda video ho dovuto combattere un po'. Ho capito la scheda video e qui potremo fare addirittura una live intera dedicata solo alle schede video, amore ed odio dei gamers negli ultimi mesi, ma su questo discorso ci torneremo dopo quando parleremo del prezzo della build, ora voglio parlarvi della scelta che ho fatto. Ho puntato ad una RTX 3000 precisamente una 3070 Ti ed in particolare acquista bellissima custom di Zotac e la amp holo con una frequenza di flock più elevata rispetto a una funders e con un sistema di dissipazione a tripola ventola su un triplo corpo lamellare con ben 6th pipe di qualità. Esteticamente la scheda video è bellissima anche da spenta ma quando partono gli RGB è davvero uno spettacolo. Poi qui c'è tutta la potenza e tutte le migliorie di una RTX 3070 Ti con un sistema di dissipazione che la tiene perfettamente a bada e non è un compito semplice perché le 70 di Nvidia spingono parecchio e poi questa scheda ha un look estetico che in questa build ci stava tantissimo. La scheda video è un TGP dichiarato di 310 watt, il processore ha il power limit sbloccato, insomma è una build che quando spinge consuma e mi sono affidato al mio fido Sharkoon Silent Storm Cool Zero che è sovradimensionato perché 850 watt sono comunque tanti ma la modalità 0 RPM funziona alla grande e devo ammettere che mi sto trovando benissimo. Bene, direi che è arrivato il momento di vedere la build finale. Ok è bella o almeno a me piace tantissimo con questo look stile cyberpunk ma dobbiamo ancora vedere come si gioca con una build del genere e soprattutto quanto costa. Partiamo dal prezzo perché ho aggiunto tanti extra inutili e voglio farvi capire che rinunciando a poco si può risparmiare parecchio. La build così come ve l'ho fatto vedere costa tra i 1700-1800 euro qualcosa più qualcosa meno ovviamente con tutte le componenti comprate bene attraverso le offerte. La premessa sul discorso del prezzo è che siate disposti ad attendere le offerte migliori perché lo sapete oggi costa tutto troppo. Quindi mettiamo caso che io voglia per forza rientrare nel budget fissato di 1200 euro cosa posso fare per avere lo stesso livello di prestazioni? Allora il processore è intoccabile, funziona troppo bene con il power limit sbloccato ed ha un ottimo rapporto qualità prezzo ma se abbinata ad una B560 da 130 euro o anche meno si risparmiano un bel po' di soldi e le B560 supportano le ramme ad alta frequenza ed il PCI Express 4.0. Il dissipatore Arctic funziona benissimo ma per il Core i5-11400F anche se sbloccato va bene una singola torre ad aria da una quarantina di euro. Per le ramme è sempre il caso di puntare a 16 giga con due banchi da 8 ma ad una frequenza più bassa da 3600-3200 vi posso assicurare che cambia davvero poco. Il case è soggettivo ma comunque si trovano parecchi case economici molto validi in giro come i metallic gear ed anche l'alimentatore è sempre il caso di puntare all'offerta dei brand più affidabili come Sisoring, FSP, Enemax, Be Quiet e così via. Evitate poi ventole troppo costose, cavi slivati sono cose inutili che riguardano solo l'estetica e puntate tutto sulla prontezza per prendere una GPU a prezzi onesti. Non vi dico di risparmiare sulla GPU perché è impossibile la fascia media come una 1660, una 1660 Super nel 2021 ad oggi, 2021 inoltrato, costano circa 780 euro visto dei prezzi davvero assurdi e quindi è davvero una sciocchezza. Meglio puntare su una componente recente come una 3070, una 3070 Ti di NVIDIA che vi assicura ottime prestazioni in ray tracing con DLSS ed anche se non si trova nei prezzi Immersarpi con un po' di pazienza e prontezza si possono prendere anche sotto gli 800 euro. Non sto qui a vendervi false speranze, il mercato è questo, la situazione delle schede video non tornerà normale a breve, anzi i prezzi alti potrebbero addirittura anche essere una costante in futuro, ma magari attraverso una disponibilità migliore e più competizione sarà più facile ricevere qualche tipo di offerta. Quindi a seconda della disponibilità ad attendere il prezzo migliore e a saper comprare o magari attendere eventi come il Prime Day, il Black Friday e così via, questo PC che costa quasi 2000 euro con qualche aggiustatina ne può costare 1200 o poco più, rinunciando all'estetica, avendo temperature un filo più alte e poco altro. Ma attenzione perché arriverà un video dedicato per provare a chiudere una build intorno ai 1000 euro, attivate le notifiche per chi arriva. Oh allora, messo da parte il capitolo prezzo, veniamo alle prestazioni. Arrivati a questo punto un PC gaming da 1200 euro e oltre, non deve rinunciare al vero ray tracing ad una risoluzione di 1440p. Ed è anche per questo che vi dico di non comprare schede video di fascia media vecchie, che vanno benissimo per carità ma oggi costano quanto le RTX 3000. Il Core i5-11400F con power limit sbloccato non sarà mai un problema per la RTX 3070 Ti, non ho mai visto bottleneck, anzi lo trovo un processore perfetto per il gaming. La RTX 3070 Ti Ampolo di Zotac è perfetta per dominale 1440p, anzi io l'ho spinta oltre con 3440x1440p, con ray tracing su folle, DLSS e tutti, ripeto, tutti i dettagli al massimo, con campo di visione enorme e tutto quello che si può fare per far carare le prestazioni, ma nulla, ne esce alla grande ed infatti con qualche settaggio giusto è possibile giocare in 4K o ad un 2K ma con framerate molto elevato. Insomma, qui le prestazioni non si discutono, sono assolutamente fantastiche. Vi lascio il gameplay e vi ricordo che la risoluzione dei giochi è su 3440x1440p, dove è possibile share, ray tracing, impostato su folle, DLSS, su bilanciato, quindi vado a specificare che questi dati che vi do possono essere migliorati molto molto semplicemente, anche perché è stupido giocare con tutto al massimo, campo di visione, poi vabbè, dipende chiaramente dai gusti, ma possono essere migliorati molto molto semplicemente. Volevo farvi dire che meno di così non va e dire che già così è tanta roba. Ma sto parlando anche troppo, vediamo i giochi. Benvenuti nel Gulag. 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 sei vivo grazie al cielo riecco artyom riemesso dall'inferno dell'occupazione grazie per le informazioni katia ma c'è un'altra cosa che vorrei chiederti merda non so dove mettere le mani ciao artyom ci si rivede artyom hai fatto paville là fuori a Sì. Brugia! Energetico a terra! Sento il bersaglio, passo! Mobilizziamo il sospetto! Stiamo seguendo il sospetto! Scusa! Io mi sono divertito davvero tantissimo a testare questa build E questo è il livello di prestazioni da puntare da questo momento in poi Il discorso sui prezzi l'abbiamo affrontato, le cose costano Ma se pensate che se inserivo un AMD Ryzen 5 serie 5000 O anche un Intel Core i5 undicesima generazione ma serie K Il prezzo si sarebbe alzato ancora di più Comunque arriveranno nuove build per chi vuole tirare ancora di più sul prezzo Ovviamente con la stessa tipologia di video Cioè componenti, alternative, consigli vari e tanti gameplay Vi lascio tutti i link in descrizione Vi lascio le build, componenti varie, l'approfondimento sull'RTX 3070 Ti Insomma tutto quello che vi può essere utile E noi ci ribecchiamo come al solito nei commenti Un saluto da Bernardo per TuttoTec.net Ciao!